Lei è qui al Governo da più di un anno. Nell'ottobre del 22 la benzina costava 1,06 euro al litro, oggi costa 1,09. I trasporti sono aumentati del 7%, il latte del 9,8%, potrei parlarle della pasta, da 2,3 euro al chilo a 3,2, il pane da 4,2 a 5,5. Evidentemente potrei continuare, ma il punto centrale è che questo disegno paradisiaco che ella ha espresso al senatore De Poli non corrisponde alla realtà del Paese. Lei, signora Presidente, ha vinto le elezioni con il 26% grazie a una straordinaria prova di coerenza della quale dobbiamo darne atto. Lei era all'opposizione, noi avevamo da sostenere il peso del Governo Draghi e prima ancora del Governo della pandemia. Lei, giustamente dal suo osservatorio, lucrava il consenso sbandierando la bandiera della coerenza. Oggi non c'è un solo argomento sul quale ella stia dimostrando coerenza. Aveva detto che avrebbe bloccato l'immigrazione e avrebbe chiuso i porti, gli sbarchi sono raddoppiati e l'unico blocco è quello della fuga dei cervelli, del rientro della fuga dei cervelli. Aveva detto alla Germania, me lo ricordo perché faceva un altro lavoro e anche lei faceva un altro lavoro, che la sorda Germania avrebbe dovuto capire che noi saremmo dovuti uscire dall'euro. Ieri l'ho vista in tutt'altre vesti con il cancelliere Scholz. Aveva detto in un meraviglioso spot, della quale voglio darle atto, straordinaria attrice, che le accise sulla benzina erano uno scandalo e lei ha aumentato rispetto al governo Draghi le accise sulle benzina. Potrei continuare sulle trivelle e su tante altre questioni. Il punto politico è che la sua coerenza, signora Presidente, si è fermata al momento in cui è stata l'opposizione. Prego Presidente Meloni. Senatore Renzi, la voglio ringraziare per questo assist da lei. Non mi aspettavo questa opportunità. Parlo volentieri di come già abbiamo cambiato la situazione di questa nazione rispetto alla condizione nella quale l'abbiamo trovata. Con tutto il rispetto, non lo dico io, penso che sia sotto gli occhi di tutti come in questi mesi sia cresciuta la fiducia degli investitori, la fiducia dei mercati sull'economia italiana. Penso che con tutto il rispetto la promozione di quattro agenzie di rating che non sono, diciamo, di solito buone su queste materie. Penso che il fatto che le famiglie comprino molto volentieri i nostri titoli di Stato. Penso che il fatto che lo spread sia ai minimi da molto tempo. Penso che il fatto che la borsa italiana cresca più di quanto crescono tutte le altre borse europee siano dei dati, diciamo, che dicono qualcosa di più rispetto alle valutazioni legittime, ovviamente, dell'opposizione. Lei mi è... e guardi, lo abbiamo fatto in piena coerenza. Eh, senatore Renzi, perché io le sento dire di aver detto che bisognava uscire dall'euro. Mi ricordo che ho detto che bisognava uscire dall'euro. Mi ricordo che ho detto che l'Italia poteva stare in Europa a testa alta ed è esattamente quello che stiamo facendo. E penso che lei se ne renda conto. Poi non abbiamo la bacchetta magica per fare i miracoli, perché, per esempio, sa, il costo della benzina, come lei sa, dipende soprattutto dalle scelte che fanno i paesi che detengono il petrolio. Se ci vuole dare una mano con il suo amico Mohammed Bin Salman, forse ci aiuta ad abbassare il prezzo della benzina. No, perché ha buoni rapporti, faccia da... faccia da ponte per aiutare gli italiani.